Buongiorno, ben trovati, questo è Occhio ai giornali tutte le mattine qui dalle 7.30 in poi, cerchiamo di essere il più puntuali possibile, veniamo in coda alla messa e quindi insomma dopo di che vi mostriamo come di consueto le pagine dei giornali con le notizie principali di Resto del Carlino e Corriere Adriatico che come potete immaginare anche oggi sono quasi a tema unico tranne qualche notizia di cronaca, però diciamo che ancora il coronavirus vista anche la situazione contingente soprattutto nella nostra provincia continua a catalizzare tutta l'attenzione, tutti gli sforzi anche delle redazioni per tenere informati i cittadini perché sia noi che anche i giornali lavorano in condizioni veramente che ormai tutti potete immaginare da casa, insomma quindi è un lavoro che sicuramente impegna molto, però insomma si cerca di darvi l'informazione il più completa possibile. Allora però noi seguiamo la nostra scaletta, il nostro iter solito, quindi guardiamo anche calendario e previsioni del tempo prima di tuffarci nelle pagine dei giornali, guardiamo con l'ausilio della regia e della grafica, ecco che cosa ci dice il calendario per oggi, sabato 21 marzo è San Lupicino, il sole è sorto alle 6.08 e tramonterà alle 18.22, le previsioni del tempo per oggi, cielo sereno e poco nuvoloso, ci saranno addensamenti cumuliformi però più che altro nei settori alto e medio collinari non ci sono precipitazioni, per invece domani domenica c'è una decisa sferzata, un'inversione di tendenza come più volte annunciato per questo arrivo di questo fronte freddo che farà ingresso appunto nei primi giorni della settimana prossima, compare anche la simbologia della neve, quindi il cielo domani domenica sarà nuvoloso, anche con nuvolosità proveniente dal mare e addensamenti più consistenti al ridosso dei settori collinari, precipitazioni ci saranno anche a carattere di rovescio, sparsi, più che altro si concentreranno le piogge nei settori del crinale appenninico, ma compare appunto dicevo la simbologia della neve sotto i 1000 metri nella notte tra domenica e lunedì e vedete appunto anche dalla grafica, temperature minime stazionari però le massime saranno in diminuzione, ci saranno anche venti forti di brezza e di brezza tesa, le previsioni per lunedì decisamente virano verso un peggioramento decisivo, molto nuvoloso, addensamenti dovuti anche all'interazione dei flussi con orografia, quindi insomma questo fronte freddo di cui vi abbiamo parlato anche ieri farà sentire ancora più forte la sua presenza, e anche qui limite delle nevicate come potete leggere nella grafica della protezione civile delle marche a quote collinari e anche il mare mosso e anche agitato farà la sua parte e temperature in ulteriore marcata diminuzione, quindi ci sarà un brusco calo della colonnina di Mercurio. Allora entriamo subito nelle pagine dei giornali e iniziamo dal Corriere Adriatico che mette in primo piano la chiamata di Ceriscioli a Conte che dice appunto il governatore delle Marche aiutateci perché la situazione è vicina al collasso negli ospedali, perché qui a Marche Nord e nel Peserese siamo saturi, i pazienti incominciano a essere smistati nel sud delle Marche, insomma il bilancio dei decessi è veramente pesante, 153 quasi 2000 i malati, il governatore dice al Premier siamo allo stremo, mandateci medici e infermieri e da oggi come avete sentito nelle ore scorse scatta una nuova stretta, però si argomenta anche su un altro fronte, quello della scuola perché la riapertura sembra che si voglia prendere in considerazione un ulteriore slittamento a maggio, perché insomma condizioni attuali veramente perlomeno da noi impediscono un rientro a scuola degli alunni il 3 di aprile perché insomma non ci sono sicuramente le condizioni, quindi si valuta anche questa ipotesi, sì al 6 politico, però i professori si dividono su questa opportunità. Nelle pagine del resto del Calino di Pesaro accarezzi mio padre per me le strazianti testimonianze di chi è costretto a convivere con i pazienti del coronavirus e le famiglie che non riescono a interagire con i loro cari, quindi i pazienti costretti a rivolgersi agli operatori per salutare alle volte per l'ultima volta i loro cari. Anche qui chiara il messaggio al governo, mandateci rinforzi, drammatica lettera di Ceriscioli al Premier Conte, situazione critica, serve personale sanitario. Entriamo nell'interno delle pagine, Corriere Adriatico fa come sempre con l'infografica una fotografia e questa è la curva dei contagi. Come vedete non accenna né a pianificarsi né a stabilizzarsi, quindi siamo veramente a numeri impressionanti e come più volte è stato detto la curva, l'escalation appunto è simile a quella che si è avuta in Lombardia. Forse abbiamo 4-5 giorni di ritardo rispetto al loro tabellino. 2.000 contagi, ospedali allo stremo, mandateci medici, record di casi positivi in un giorno con 250 nuovi infettati e le vittime marchigiane sono assalite a 153. L'esercito anche in campo per i controlli. Ecco qui si parla della scuola appunto come abbiamo visto dal lancio della prima pagina. Rebus riaprirà mai e la maturità, questa è un'altra incognita, come faranno i ragazzi che devono conseguire la maturità in quest'anno scolastico. Ministra Lucia Azzolina ha anticipato la proroga della chiusura delle scuole, si tornerà in classe quando finirà l'emergenza e gli esami, il Ministro ha detto, ci stiamo attrezzando. Quindi se è politico si divide il corpo docente. Per chi non è un'opportunità da considerare, perché si dice noi con l'apprendimento a distanza stiamo mantenendo l'orario settimanale e c'è chi invece dice parliamone, perché potrebbe essere un'opportunità, perché le condizioni sono sicuramente diverse. Certo è che il prossimo anno bisognerà che venga tarato su questa esperienza e quindi prendere le giuste misure e valutare anche i programmi dell'anno prossimo. Vedremo anche questo aspetto del coronavirus come verrà affrontato. Intanto c'è il lavoro, il lavoro che è in crisi, Confindustria muove un duro attacco al decreto. Siamo in ginocchio, quello che sta arrivando sono spiccioli, è una semplice flebo di soluzione fisiologica che non ci aiuta certo a risolvere i problemi che andremo ad affrontare in un futuro, ahimè, molto prossimo. Quindi il Presidente regionale di Confindustria dice, insomma, contro il cura Italia, dice non c'è garanzia, non salva sicuramente la vita. e Scavolini dice la cifra per gli ammortizzatori non copre la necessità. Scavolini, insomma, conosciamo tutti chi è, sappiamo chi è, quindi anche lui si schiera dalla parte di chi critica questo provvedimento da integrare fondi per finanziamenti agevolati alle imprese. Quindi c'è il mondo imprenditoriale, ma c'è anche tutto un mondo di lavoratori e di gente che vede nell'incognita anche, insomma, un'incognita pesante per il futuro, per le proprie famiglie tra cassa integrazione, ma c'è tutto un esercito di altri lavoratori che forse non avranno tutte le tutele che meriterebbero. Allora, vediamo qui l'apertura anche sul meteo. Sul meteo le previsioni sono queste, siamo tutti a casa e con la primavera arriva pure la neve, tanto per tenere alto il morale, se ce ne fosse stato bisogno, colpo di coda di un inverno anomalo. Quindi, insomma, dalla prossima settimana almeno il sole, come diciamo, aiutava un po' ad affrontare meglio queste giornate. Se da un lato magari ci veniva rabbia per non poter uscire di casa, però almeno il sole ci dava un minimo di conforto, le giornate uggiose, pesanti, magari anche con la neve, sicuramente non miglioreranno, perlomeno lo stato psicofisico di molte persone. Unità di crisi, rientriamo nell'argomento vivo, nell'argomento veramente con le ferite aperte. Unità di crisi a Marche Nord, la rianimazione è al completo. Satura anche terapia intensiva e situazione critica al pronto soccorso di Fano, con pazienti che già da diversi giorni vengono dirottati a Senigaglia e a Iesi, nel sud delle Marche, nelle strutture che riescono ancora a essere ricettive. Il direttore generale, Maria Capalvo, dice comunque sono arrivati ventilatori ed altri letti, noi ce la faremo. Questa è una foto di incoraggiamento per tutti, ma più che altro penso che se la facciano anche prodomo l'ora, perché veramente i sanitari davanti a Marche Nord fanno massa comune, vogliono dare una sensazione a chi sta fuori dalle mure di essere pronti ad affrontare la situazione e ce la faremo. Sono sicuramente sul fronte della prima linea e a loro va tutto il nostro rispetto e ammirazione per quanto stanno facendo. A Galantara sono solo dei genti convalescenti, quindi si riassettano le strutture richieste dei sindici dalla RSA via la riabilitazione, anche macerata feltra, però poche le mascherine per gli operatori. Questo è un altro aspetto critico, sembra assurdo che chi è sul fronte non abbia tutti gli strumenti di protezione individuale, sembra una farsa, ma purtroppo invece è così, si è arrivati forse un po' tardi a pensare a queste cose e ora si è in affanno. Spesa e medicinali a casa, gli angeli custodi delle persone deboli e fragili continuano la loro opera indomita, anche loro con le incognite di questa mission che hanno e corrono ai ripari come possono, addirittura disinfettando anche i soldi, perché questo è, insomma, i soldi, la carta, sono un veicolo del virus, ecco perché lavarsi sempre le mani, ecco perché disinfettare tutto, e si arriva anche a disinfettare i soldi. Ogni giorno arrivano ben 40 chiamate alla protezione civile per aiuto. I comuni cercano di correre ripari come possono, cercando di alleviare il carico fiscale, allungando le scadenze, e quindi da Pesaro arriva Ricci, che dice, dopo un incontro con le associazioni di categoria, banche e i sindacati, dice Tosap e pubblicità, prime tasse sospese, è iniziato solo ora il confronto, che è servito appunto a raccogliere le richieste, le istanze del mondo produttivo. Ecco qua, foto molto eloquenti, e storie di vita quotidiana. Parla un'operatrice, arresto del Carlino, che fa da tramite tra gli anziani e i parenti, usa un tablet, e deve districarsi tra il dolore, e le scene strazianti che questa situazione comporta, e purtroppo arriva anche l'ultima telefonata prima dell'addio a Carezzi, mio papà io non posso. Questo è un dramma nel dramma, il dramma delle famiglie, oltre che a quello dei pazienti malati, che non possono essere accuditi dai loro cari. Ceriscioli scrive al Premier, Conte, e anche nelle pagine del resto del Carlino, questa missiva del Presidente delle Marche, servono medici e mandateci anche i militari. Mancano infatti 73 camici bianchi, e 41 infermieri da inserire subito nel sistema ospedaliero per la battaglia. Intanto ieri un altro bollettino di guerra, 9 i morti, con il totale dei decessi nella provincia di Pesaro e Rubino, quindi qui stiamo parlando di questa zona, che è arrivato al numero che vedete qui, 115 decessi. L'altra faccia, le altre facce che sono più di una della medaglia di questa emergenza coronavirus, è questa, le file chilometriche davanti ai, se non chilometriche, ma di qualche centinaia di metri, alle volte sicuro, davanti ai supermercati, in fila per fare la spesa, tutti a Pesaro per fare la fila, per acquistare generi di prima necessità. La processione è continua, perché la gente si acquista massicciamente generi alimentari, però dopo un po' bisogna pure andare a rifare rifornimento. la gente acquista carne, uova, ortofrutta, pasta e prodotti anche per i dolci, per fare il pane in casa, o anche i dolci fatti in casa, un po' per passare il tempo, un po' anche per fare qualcosa di utile, ed evitare un'uscita in più, per andare a comprare il pane fresco. Anche stessa scena all'Ocean Exo-Chan, ora il Conad, spazio Conad di Bellocchi, ingressi affollati, anche forze dell'ordine per regolamentare gli ingressi, e domani mattina sarà aperto, appunto lo spazio Conad, l'ho annunciato il suo proprietario, proprio per evitare affollamenti, domani mattina ci sarà lo spazio Conad al Fanocenter aperto. La una delle altre facce è questa, appunto, oltre alla spesa, le persone che sono all'estero, che si trovavano all'estero nel momento in cui sono state prese le massime misure di contenimento, e quindi una volta che si sono blindate città e frontiere, ecco che cosa succede, che ci sono persone che si trovano all'estero e che avevano programmato un viaggio, insomma qualcosa che mai e poi mai avrebbero immaginato una cosa del genere, che sono, come dire, tra virgolette prigioniere, in questo caso si trovano a Bali, ed è proprio il caso di Stefano Giuliani e della sua compagna, due sessantenni pesaresi, che non sanno come tornassene a casa, il volo annullato, ci hanno, tra l'altro anche il premesso di soggiorno scaduto, passaporto ritirato, e anche pochi soldi, insomma situazioni sicuramente non piacevoli, insomma ecco, forse meglio lì che in un ospedale, chiusi a Tenerife, ma il volo lunedì ci riporterà in Italia, insomma questa coppia invece ha un futuro un po' più certo rispetto ai Giuliani, ma insomma vedremo. A Valanga le richieste di cassa integrazione, anche il resto del Caralino fa un focus sul mondo impreditoriale, alle ABS, inoltrate richieste per 1700 dipendenti, poi c'è la Renco e Diba, ma anche gli artigiani, la piccola e media impresa, un po' il motore, gli artigiani, soprattutto nelle marche, il cuore dell'economia pulsante di questa regione è al collasso e quindi si va in caccia di ammortizzatori per i propri dipendenti e per le maestranze, quindi che sicuramente soffriranno il contracolpo più pesante. Apriamo le pagine di Fano, si parla ancora, in città ha fatto tanto scalpore, ha creato molto cordoglio e affetto anche nei confronti della famiglia, stiamo parlando della scompassa del professor Alberto Berardi e appunto continuano i messaggi di cordoglio alla famiglia e le testimonianze di quanti hanno avuto fortuna e piacere di frequentare la sua persona. Con Alberto si è spenta una luce della città, Berardi chiaramente segue l'iter, la salma del professore segue l'iter che stanno seguendo tutte le salme in questi giorni e quindi però bisogna rendere il giusto omaggio, la famiglia vuole sicuramente farlo, quando tutto questo sarà possibile, appena appunto ci sarà la possibilità, verrà cremato e poi riposerà per sempre al cimitero centrale, intanto piovono testimonianze d'affetto e anche qui nella vignetta di Giombetti, vedete insomma come lo ha identificato, arrivederci Alberto, Fano è appunto in lacrime, il suo posto dovrà essere nel famedio locale. Si parla appunto anche di come evolverà la situazione, allora il resto del Carlino è andato a fare due domande al dottor Antonio Dottori, omen omen alle volte, come dicevano i romani, che è il responsabile del pronto soccorso e salomonica la sua diagnosi insomma sul coronavirus, facile che il virus possa ripresentarsi, tutto potrà ripresentarsi e lui dice alla domanda della cronista quando finirà tutto questo, finirà quando qualcuno troverà il vaccino e ce lo faremo tutti. Ecco questa è la sua diagnosi e insomma comunque andatevi a leggere l'intervista perché fa una disamina molto precisa di quello che stiamo vivendo. Forno crematorio è al collasso, ecco tanti gli aspetti e i risvolti di questa vicenda, uno di questi è proprio questo, di cui vi abbiamo accennato prima con la scomparsa del professor Berardi. L'impianto dell'ulivo, l'altro ieri, ne aveva pensate 70 in attesa della cremazione da lunedì, ci sarà però il trasferimento delle salme in Romagna per chi deve eseguire questa procedura perché l'impianto del cimitero dell'ulivo non riesce più ad essere ricettivo. Tutto il sistema è sotto stress e intanto per gli operatori di Aset è caccia alle mascherine, anche loro vanno in cerca di mascherine per lavorare. Allora stemperiamo un po' anche con questa notizia, cultura Parma resti capitale anche nel 2021, il sindaco Massimo Seri scrive al suo emologo Pizzarotti e propone di lasciare il titolo alla città emiliana proprio per questa situazione che ovviamente è una situazione straordinaria su tutti i fronti e quindi Seri annuncia che avanzerà la proposta al Ministero per il suo amico Pizzarotti e per far mantenere a Parma la capitale anche per il 2021. Stessa notizia riportata anche nel Corriere Adriatico, moratoria sulla capitale della cultura, Seri appoggia la richiesta di Pizzarotti, il titolo di Parma è da rinviare al 2021 vista l'attuale situazione e che ha sospeso di fatto, ha congelato tutti gli eventi, quindi la candidatura di Fano slitterebbe al 2022. Ma vi faccio vedere una foto, ve le abbiamo fatte vedere anche ieri, sono molto belle e suggestive, queste del campanile, dei monumenti principali della città illuminati a tricolore, insomma Bastione San Gallo, il campanile di piazza si sono illuminati in questo modo, grazie a un'iniziativa privata che sicuramente ha dato un bel segnale anche questo di unità che in questi giorni serve veramente tanto. Contagi a Urbino, andiamo a Urbino, siamo come la Lombardia, insomma tutta la provincia di Pesaro Urbino lo è, proporzione appunto simile, insomma i modelli statistici lo dimostrano e nuovo accorrato appello della Foschia alla Regione. Ci classificate no Covid ma invece ne abbiamo tanti di casi positivi, dateci più risorse, quindi la Foschi si rivolge alla Regione, la Regione si rivolge al Governo e speriamo che qualcuno ci dia una mano in senso attivo. Ostetrice e ginecologia, parla il primario, Leone Condemi dice il reparto è sicuro, abbiamo creato percorsi sicuri ed è un punto nascite che ha registrato un incremento maggiore rispetto al 2019, quindi in provincia non ci sono altri punti nascita, quindi questo va preservato e mantenuto, le mamme in attesa possono telefonare in ogni orario, c'è sempre qualcuno che gli dà una risposta e qui ci sono i numeri di riferimento. Sempre da Urbino, però il Corriere Adriatico fa un focus sui commercianti del centro e la loro crisi alla quale sono sempre più protagonisti e dicono Urbino non deve dimenticarsi di noi, in questi giorni la chiusura forzata dei negozianti ha portato loro stessi a interrogarsi sul futuro e chiedono tutti gli aiuti possibili e immaginabili. Si pensi soltanto che il periodo che andiamo ad affrontare, che era quello della Pasquetta, del primo di maggio, era un periodo in cui città appunto come Urbino, ma stessa Peso, ma anche Fano, era una città comunque che avevano un ingresso di turisti e che quindi davano un impulso all'economia, si ripartiva un po', tutto questo ora non c'è, quindi i conti li faremo alla fine di tutto questo, ma saranno conti veramente di un rosso molto profondo. L'ultima pagina che vi propongo è questa di Senigallia, con una notizia di tono un po' diverso, ma che insomma alleggerisce un po', i senigalliesi, beati loro, sono un popolo di lettori, sono 25 mila i libri in prestito all'anno, quindi nella biblioteca antonelliana che ha attivato l'accesso alla media library online per e-book e quindi audio volumi, e insomma i dati sono questi, vedete, oltre 25 mila libri presi in prestito, vuol dire che la gente ci sono altrettante 25 mila persone che se li leggono e anche le presenze sono presenze importanti, 33 mila ogni anno, insomma quindi le biblioteche come punto focale della cultura funzionano e funzionano ancora. Bene, questo era tutto per oggi, per l'ultima rassegna stampa della settimana, grazie per essere stati in nostra compagnia in questa prima parte del fine settimana, vi ricordo che domani, come abbiamo fatto domenica scorsa, trasmetteremo la Santa Messa in diretta alle ore 10, la trasmetteremo dalla Basilica di San Paterniano, sarà preseduta, naturalmente la Messa sarà a porte chiuse dal Vescovo Armando Trasarti, quindi da San Paterniano domani alle ore 10 trasmetteremo in diretta la Santa Messa. Bene, grazie, questo è il numero comunque, noi siamo operativi anche se naturalmente con tutte le difficoltà del caso, però il numero è sempre attivo per entrare in contatto con la nostra redazione. Grazie per stare ancora e sempre con noi, vi auguro il fine settimana migliore possibile. Grazie a tutti voi, arrivederci alla settimana prossima. Grazie a tutti.